pc a meno di 650 euro buon salve buon salve a tutti signori e bentornati qui su rama 95 youtube l'unico canale tech dove c'è il latte nella tecnologia signori bentornati quest'oggi ho deciso di vi voglio parlare comunque ho deciso di dare una svecchiata alle prime build che fece a mio tempo su questo canale esattamente le build gemelle praticamente da 600 e 650 euro la 600 era un pc senza scheda grafica con un intel i5 10.000 sk o 11.000 sk a seconda di che tipo budget abbiamo a disposizione e la vida 650 euro con un rise i5 5600 g quindi oggi ho detto ma con una cifra del genere quindi con magari più realisticamente parlando 650 euro è possibile magari anche meno fare un pc migliore di questo sicuramente in maniera generalistica prima prima di cominciare vi ricordo ancora iscrivetevi al canale attivare la campagna notifica e iscrivetevi social che vi lascerò qui sotto in descrizione ti tocco intanto lo sto portando quindi magari è sul canale viola ragazzi stiamo portando un sacco di robe ho in mente di fare una maratona horror quindi ragazzi seguirmi perché cioè vi facciamo delle cose bellissime in più vi ricordo che prenderò come diciamo così come ritmo come vizio come routine di streamare il lunedì pomeriggio dove magari potremo fare contenuto tech dove magari testiamo dei compiuto oppure semplicemente reggiremo dei video o semplicemente ci mettiamo lì in maniera più chillosa possibile parleremo del più e del meno a livello tech commenteremo notizie e possiamo anche tranquillamente discutere del più e del meno a livello tech giusto per magari tenersi in forma scambiarci opinioni eccetera 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 quindi ragazzi seguitemi su tutti i social perché effettivamente ne ho tante di cose infatti oltretutto sono reso conto che ho anche un piccolo problema perché sono in surplus di video quindi questo video qui andrà a prendere posto gli altri video che dovevano uscire però perché diciamo così urge anche un po' la situazione allora questa build ovviamente scordatevi stranezze ok ho visto una build mentre perché poi questo è la seconda volta che lo sto registrando questo video però tra la prima e la seconda città sono visto un video che forse era meglio che non vedevo perché vedere un pc che poi le parleremo ne ha fatto un po' accapponare la pelle allora la configurazione si baserà principalmente su socket am4 penso che sia l'ultima configurazione che potrò fare però attualmente effettivamente sotto una certa soglia di prezzo è impossibile non considerare am4 però mi raccomando seguitemi nel video perché vi darò delle alternative delle soluzioni ovviamente per tutte le tasche qui sarò estremamente stretto con la cinghia col prezzo però seguite tutto il video dove vi darò le alternative e eventuali variabili che potete applicare a questa build questa è una build completamente a tela bianca che poi potete modulare alla vostra esigenza del momento il cuore pulsante del nostro computer è un ryzen 3 4100 il ryzen 3 4100 non è altro che un ryzen 3 4300g se ho detto bene il nome che è praticamente un processor quad core 8 thread senza però la grafica integrata attiva è dotato di una frequenza massima di 4 gigahertz con un base di 4,8 e una cache l2 pr3 di ben 6 megabyte allora effettivamente se andiamo a comparare con il processore che più ci viene in mente ovvero il 3100 effettivamente è un processore che va un po' meno rispetto al 3100 perché perché effettivamente è vero che il 3100 ha una frequenza di 100 megahertz più bassa però la cache che è una cosa che può essere ok importante fino a un certo punto però effettivamente insomma praticamente questo 4100 ha la metà della cache disponibile sul 3100 in tanti applicativi diciamo che va un po' sotto sia in single core che in hyper trading ora magari per quanto riguarda il game sicuramente un po' perde in hyper trading sei un po' lì più o meno ci varia circa un 3 4 per cento ripeto che appunto sono estremamente simili se voi ci vogliamo paragonarlo a un processore che conosco molto bene il i5 1004 effettivamente per quanto riguarda la parte single thread sei anche lì sotto un 10 per cento perché anche la cache lì è un po' più alta per hyper trading diciamo che effettivamente è tolto il fatto che ha appunto due core e 4 thread in più per il resto alla fine diciamo che non c'è tantissima distanza perché appunto bene apposta si parla di anche lì un circa 6 per cento perché effettivamente il processo produttivo del 4100 è più raffiato del 10100 quindi effettivamente diciamo che la distanza non è nettissima ma effettivamente purtroppo è la fisicità del processore è quella che di più dà come limite la cosa che principalmente ci tengo a dire effettivamente questo processore che mi raccomando ragazzi sappiate che questo processore come anche l'eventuale alternativa che vi darò dopo sono basate su PCI lane 3.0 quindi effettivamente se avete un mvm 4.0 se avete schede video 4.0 diciamo che qui cioè non sfrutterete questa tecnologia 4.0 ok per quanto riguarda la scheda madre ho deciso di spendere forse un po' di più però effettivamente la scheda madre che comunque non è il top ma ci permetterà di poter alloggiare i processori perlomeno a mio avviso fino al 5700X potete metterlo tranquillamente ovvero la ASRock B550 Phantom Gaming 4 è una scheda madre tutto sommato che è decente va bene per quello che ci serve fa benissimo il suo lavoro se volete fare overclock lo potete fare però effettivamente per quanto riguarda l'overclock fino al 5700X io ci metterò un po' di riserva come qualità però dovrebbero comunque riuscire a tenere anche un 5600X eventualmente con un overclock non troppo spinto per quanto riguarda le ram mi sono affidato al kit più economico però effettivamente qui ci balla anche un euro con un kit leggermente migliore poi li valutate voi io qui vi ho messo le G-Skilla EGIS 3002 CL16 16 GB 47 euro effettivamente di meno non si trova ok a livello di decenza questo è proprio il minimo della decenza per poter avere delle ram in un computer questo sono il minimo della decenza per avere per dire ok delle ram ok ci sono eventualmente le Kingston Fury mi siamo avvisati a 48 io ho messo queste per l'euro più euro o meno questo può ovviamente io ve le metto tutte sotto poi in descrizione quindi scegliete voi quale volete prendere queste vanno bene le Kingston Fury vanno bene valutate voi se un euro può essere effettivamente d'acqua da bilancio spererei di no per quanto riguarda invece lo storage l'ho affidato vabbè al mai è quello penso che te lo regalano te lo lanciano dietro il Lexar NM620 da 500 giga 36 euro qui effettivamente siamo su un budget estremamente ristretto 36 euro è il minimo che si può si può chiedere ecco qui in questo caso magari faccio appello al fatto che se magari avete un pc vecchio magari state studiando questo computer con un altro computer magari recuperare hard disk o eventuale ssd può essere comodo può essere utile per appunto avere quello spazio in più magari per poterci mettere i vostri documenti le vostre foto i vostri video i vostri giochi e quindi adesso così abbiamo chiuso il blocco per la cronaca il dissipatore utilizzeremo lo stock già presente nella confezione del processore poi parleremo per eventuali extra per quanto riguarda il case mi sono affidato al oversteel iridium quindi un case insomma per 50 euro effettivamente non si trova di meglio parlando appunto che abbiamo una scheda madre ATX quindi scheda madre ATX se volete forse un case ATX se no forse avete trovato una scheda madre buona micro ATX o se la trovate magari sempre sulla cifra dei 115 euro 313 euro della dell'ASRock potete eventualmente optare per il techware forge m2 che sta a 50 euro quindi pagate un po' meno si parla anche lì di un euro però effettivamente è un bellissimo case che viene già fornito con tre ventole a RGB mentre invece qui in questo caso ne abbiamo solamente una già montata però il case comunque a questo va bene il fronte misciato al top comunque è aperto non ha problemi per poter appunto ospitare una configurazione che poi vi ripeto anche se c'è solamente installata questo non è una configurazione che scalderà molto che consumerà molto quindi stiamo tranquilli e infatti per quanto riguarda la scheda video sempre parlando termini di scaldare consumi tutto il resto la scheda video in questo caso ho utilizzato ormai la classica RX 6600 DXFX Swift 2.1.0 un'ottima custom che andrà benissimo a braccetto con il nostro processore l'alimentatore in questo caso ci vuole il classico MWE da 500 watt quindi ragazzi 46 euro che cosa si può chiedere no va bene è un ottimo alimentatore va benissimo questa build siamo una build economica quindi ci vuole un alimentatore comunque che sia buono economico ma buono e questa cosa qui va benissimo siamo anche ben oltre la richiesta energetica della configurazione in toto quindi con questo andate tranquilli e la build sostanzialmente si è conclude in totale la build venirebbe a costare attualmente oggi 29 gennaio 643 euro più spiccioli quindi siamo poco sotto le 650 del limite però come sempre vi ho detto quando avete un budget pensate sempre di avere quel 10% in più di margine perché basta poco per avere di più ok e infatti io vi consiglio nel caso in cui avete più budget 10 euro non sono nulla ok per tantissime persone che mi seguono 10 euro non sono niente però io magari faccio anche un riferimento a questo qui ci posso pensare magari anche un ragazzo giovane che ha il suo piccolo stipendio magari un ragazzo che fa il servizio civile che qui da me in toscana un ragazzo che fa il servizio civile prende 450 euro scarsi al mese quindi già questa build è già più di uno stipendio per una persona che fa il servizio civile posso capire che finiti 10 euro magari i sparmati possono essere oro quindi se avete questo budget limitato ok questa è la vostra build va benissimo se vuoi sapere questa build come va vi invito a vedervi il video del 1004 con la 6600 liscia che ho fatto qualche mese fa e da questi benchmark ci togliete il 10% circa di frame da medici di quelli che vi dico sostanzialmente più o meno avete l'idea di come va come build poi anche il 10% a spanne magari anche meno e avete più o meno le performance che avrete in per quanto riguarda perlomeno il full hd i 1440p o superiori la situazione è un po' diversa perché il processore fa meno da frame in questo caso perché appunto il carico maggiore è sulla scheda video quindi io eliminerei anche eventualmente di togliere dei frame ok quindi tornando a noi per 10 euro io vi consiglio se lo potete fare e penso tanti voi magari lo potrebbero fare di prendere un Ryzen 5 4500 per 10 euro sta 80 euro questa 70 come processore effettivamente per 10 euro non mi farei tanti problemi lo prenderei e alla fine ho gli stessi performance anzi magari un pochino di più di un 10.400 ok quindi anche se avete vi comprate il 4005 avete il video della 10.400 e avete praticamente i benchmark del 4005 anzi magari avete un pochino più perché effettivamente il 4005 ha un briciolino in più di prestazioni però vi dico guardate quello e avete praticamente i risultati che fareste con questa tipologia di build per quanto riguarda invece la parte dissipazione io vi dico tenetevi lo stock il processore non consuma nulla ok non scalda niente quindi andate tranquilli se pensate di fare overclock per quanto overclock sia un po' strano potete eventualmente prendermi anche un dissipatore un buon dissipatore sui 30 euro tipo i classici gamma xx bk di dipcool quelli vanno benissimo ci mettete quello lì e ovviamente dissipate alla grande quel processore cioè state tranquilli il 4005 overclock in un ITX è vero che c'è un dissipatore in octa però non è che è il dissipatore in octa quello super è quello proprio più piccolo che si trova sul mercato comunque sotto i 65 66 gradi sotto stress ci sta quindi in una build normale in una build ATX sicuramente il problema non credo che si farà sentire anche su questo fronte temperature per quanto riguarda invece eventuali attività anche per quanto riguarda lo storage vi consiglio se avete anche lì magari 30 euro in più di budget spendete 63 euro invece che 36 e vi comprate il Lexar da un terabyte che effettivamente può far comodo poi anche lì sempre faccio appello al vostro fatto che se avete state sostituendo un pc con questo recuperate magari eventuali hard disk e ssd che può sempre far comodo perché mettiamo caso da quei pc lì ci recuperate un hard disk da 2 terabyte e un ssd da 240 potete eventualmente utilizzare AMD Stormy e poter unire l'ssd e l'hard disk in modo che vi faccia l'ssd da cache all'hard disk e avere un hard disk un po' più veloce di un classico hard disk non veloce come un ssd però che comunque può sempre essere utile per i vostri giochi magari quelli un pochino più pesanti perché vi capisco che effettivamente un terabyte sono tanti ma sono anche pochi se andiamo a vedere certi tipi di giochi dove spartono magari 100 giga e passa lo vedo con Halo lo vedo con Forza Motorsport Forza Horizon che sono effettivamente titoli estremamente pesanti vi capisco che effettivamente un terabyte può sembrare molto poco quindi in questi casi con budget estremamente ristretti a recuperare il più possibile può essere utile l'alimentatore io vi dico questo prendetevi questo qui tanto va bene se pensate che volete fare upgrade in futuro e ficcarci un 5600X tra un anno o due mi sembra un po' strano però se volete farlo potete farlo e magari un 6700 vi dico magari valutate un alimentatore magari un po' più chiotto tipo un P650B per esempio lo pagate di più però effettivamente avete una qualità che è tutt'altro pianeta oltre ad avere quei 150W in più che diciamo lasciano un po' il tempo che trova però effettivamente a livello qualitativo il P650B è un altro pianeta signori la build si conclude qui questa è una build pensata soprattutto per chi vuole giocare in super economia chi non ha veramente poco da spendere e praticamente va quasi in contrasto con il video che ho fatto qualche mese fa col pc da 700 euro qui siamo ancora meno 643 euro praticamente penso che sia il minimo sindacale per farsi un pc buono per giocare con una grafica dedicata meno di questo non si può fare e soprattutto è per rispondere al fatto che qualcuno ha fatto oggi uscire un video con un pc da 500 euro che è a dir poco vergognoso per quanto possa essere buono il 4500 perché un ottimo professore è evidente a 80 euro non ci trovi niente però mettere un 4500 che vi ricordo 4500, 5500, 4100 come tutti i professori serie G attualmente hanno tutti linee PCI Express 3.0 e andarci a abbinare su questi tipi di processori una 6500 XT vuol dire lavorare male sapete già benissimo cosa fa la 6500 XT su una PCI Lane 3.0 sulla 4.0 fa schifo sulla 3.0 è un disastro quindi non ha alcun tipo di senso e ovviamente secondo me sono 500 euro spesi male a me non me ne frega niente cioè poi ognuno fa come gli pare io vi dico secondo me così sono spesi male io ho fisso al mio tempo un pc da 500 euro sarà tipo quest'estate l'ho fatto più o meno che ovviamente aveva tutta l'altro tipologia di cose di setup però effettivamente secondo me è più utile su quel lato lì che fare una roba del genere che poi secondo me ci vivi male piuttosto spendo questi 143 euro in più e mi faccio un pc che sicuramente mi dura più nel tempo se voglio giocare tanto per giocare un quadro con rototread vi basta e vi avanza con un pc del genere non potete anche se volete streammare ok non c'ha problemi potete streammare fare video editing foto di tocco ovviamente normale con i limiti dell'alber che porta non vi aspettate prestazioni top di gamma non vi aspettate che il pc faccia 180.000 frame ok non ve lo dovete aspettare perché nemmeno io faccio 180.000 frame con un 136k e una 3090 faccio neanche 140 a volte non neanche il monitor su diversi titoli ma non me ne frega io mi diverto dovete giocare dovete divertirvi se volete streammare le vostre passioni le vostre partite a lol lo potete fare con un pc del genere non c'è alcun limite il limite è nella vostra testa dovete essere consapevoli dell'hardware che comprate è normale che non avete se spedete 650 non avrete un hardware top però avete comunque un pc discreto e degno che vi fa giocare in full hd praticamente a tutte le tipologie di refresh rate è normale quelli più elevati magari forse saranno un po limitati dal processore 240 hertz molto 240 hertz è forse un po' too much per questo tipo di video però i 144 vi dico non avete problemi volete giocare in 1440p 144 ce la fate ovviamente non saturate il monitor però non ha problemi a riguardo volete facervi un 4k timido ok lo potete fare dovete ovviamente essere consapevoli dell'hardware che avete in mano è importante avere un po' di consapevolezza perché nei pc gaming non siamo sulle console che sono plug and play ci vuole un minimo di consapevolezza ma basta poco veramente non serve la scienza infusa basta veramente un po' di occhio e perdeci quei 5 minuti in più per trovare la giusta quadra e non avrete problemi vi goderete il vostro pc senza problemi sia che sia con il 4100 sia che sia con il 4500 vi divertirete tranquillamente state tranquilli che questo è un pc che vi permetterà di fare quello che voi volete fare anche perché giustamente posso capire che non tutti possono permettersi 800 euro o più di 40-70 ti detto questo signori mi raccomando fate sapere sotto nei commenti cosa ne pensate e casomai se volete se questo video vi piace se volete fatelo sapere sotto nei commenti se vi interessa possiamo vedere di rifare una video da 500 euro aggiornata con i prezzi di oggi e vedere un po' cosa ne esce fuori altra cosa che vi ricordo che mi sono scusato di dirvi effettivamente che nel caso in cui vogliate magari avere un occhio più upgradeabile ecco vi consiglio eventualmente di fare un passaggio un po' più grosso ovvero spenderete di più perché se volete spendere circa 100 euro in più però con 100 euro in più vi portate a casa praticamente quindi con circa 700-740 euro forse anche molto meno tra i 700 e i 730 euro più realisticamente se guardate bene nei giri potete provare a portarvi a casa un i3 12100 o f o non f e una b660 questo perché vi dico fate anche prendere in considerazione eventualmente questo tipo di upgrade perché effettivamente con una base del genere guadagnate già col 12100 vandate più forte sia in singolo che in multicore il petto è 4100 e non c'è paragone effettivamente però vi aprite la porta a un'upgradabilità molto più ampia se avete una buona b660 dove poi alla fine andate a fare un semplice aggiornamento bios potete un domani mettervi anche processori del calibro come un 1300-13500 che sono processori estremamente spinti estremamente performanti che non sono niente male quindi anche lì secondo me veramente pensate anche in questa ottica quindi valutate tutto io vi ripeto sotto vi ascerò tutte le soluzioni poi sta a voi cercare di capire qual è la quadra qual è la modulazione più adatta al vostro portafoglio poi se invece siete proprio stretti 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 con il budget questa build che ho fatto così è perfetta per tantissime task di uso comune perché tanto io sono sempre più convinto del fatto che tante persone che seguono me che seguono saddi che seguono tutti gli altri ragazzi mi guarda dantes ale eccetera una 6600 è più che sufficiente per quello che devono fare detto questo ragazzi ci vediamo al prossimo video